Grazie. 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 Schetteremo il termine da molti vista come secondaria. L'educazione civica diventerà veramente un pilastro per i nostri ragazzi. Allora cominciamo subito con una domanda al professor Giovannini così diamo subito una bella botta al tema della globalizzazione. Ecco possiamo affermare che il concetto di globalizzazione come lo intendiamo noi, soprattutto noi occidentali è superato o quantomeno deve essere rivisto? La globalizzazione non è superata, lo dimostrano i flussi non solo di commercio ma anche di investimenti diretti che però cambiano forma dopo la pandemia e poi la guerra in Ucraina. Una parte delle catene del valore per cui io sono un'impresa italiana ma in realtà produco dall'altra parte del mondo e poi devo portare, stanno riconfigurandosi in nome di quella che impropriamente a mio parere si chiama con un nome appunto un po' vecchio autonomia strategica, cioè che poi se la portiamo alle estreme conseguenze vuol dire autarchia, chiusa parentesi, vuol dire cioè di produrre in aree del mondo più comuni da un punto di vista anche ideale delle regole perché le interruzioni delle catene del valore che abbiamo avuto in questi tre anni hanno mostrato la fragilità di quelle catene. Quello che purtroppo è in grande discussione è lo spirito della diplomazia multilaterale cioè il rifiuto della visione che portò nel 2015 non solo all'agenda 2030 ma anche agli accordi di Parigi per la lotta alla crisi climatica e cioè il riconoscimento che tutti siamo nella stessa barca tutti siamo parte di un unico pianeta come dice Papa Francesco, tutti siamo parte in realtà di una società globalizzata ecco i conflitti tra le grandi potenze stanno facendo venire meno tutto questo e rischiamo una vera involuzione culturale, politica e dunque in termini di azioni e l'Italia, l'Europa e gli Stati Uniti sono dei luoghi in cui questo dibattito nel prossimo anno diventerà molto molto caldo perché negli Stati Uniti alcune imprese che si occupano di sostenibilità che hanno cercato di essere più sostenibili, meno impattanti sull'ambiente sono boicottate dalla destra americana e quindi hanno dovuto abbassare la sordina diciamo così e non dire più che loro rispettano i diritti, impattano di meno, emettono meno emissioni perché? Perché questo è diventato terreno di scontro politico e l'Europa non è molto diversa, basta leggere le dichiarazioni anche di alcuni ministri italiani che dicono quando noi, la destra, vincerà le elezioni l'anno prossimo la Commissione europea che in questi cinque anni, quattro anni, ha spinto molto nella direzione della lotta al cambiamento climatico eccetera eccetera allora torneremo indietro contro questa idea, anzi questa ideologia ambientalista che sta facendo e farà un sacco di danni e l'Italia anche è parte di questa discussione lo dico perché i prossimi 12 mesi potrebbero configurare con una vittoria di certe tesi un balzo all'indietro, ahimè e non un ulteriore balzo in avanti che invece è l'unica condizione per evitare che i disastri che vediamo sempre più frequenti si realizzino anche in futuro non parlo soltanto degli aspetti ambientali, parlo dell'aumento delle disuguaglianze parlo dell'arretramento generale sull'agenda 2030 perché per esempio sulla povertà a livello mondiale abbiamo perso quattro anni di miglioramenti a causa prima della pandemia e poi della crisi energetica Dottore Sassigari, quindi possiamo dire post globalizzazione o deglobalizzazione? Sicuramente è una fase transitore nella quale abbiamo tre grandi blocchi il blocco della Nato, il blocco di Bricks and Friends proprio in questi giorni la riunione in Sudafrica che poi si reitererà ad agosto e dove questa nuova alleanza soprattutto da un punto di vista difensivo ed energetico tra Cina e Russia domine, dominerà quello che saranno le decisioni dei Bricks e poi l'ambito africano come una nuova proiezione di leadership per quanto riguarda ovviamente parliamo del periodo 2030-2050 che un po' sta preoccupando la stessa Cina che ci ha investito molto in ambito di questa distribuzione regionale modificatasi dal fatto che l'America ha fatto un po' un passo indietro in termini di politica estera piano piano fin dai tempi di Obama perdendo parte delle peeling anche nei confronti del Medio Oriente e la recente alleanza Iran e Arabia Saudita nei confronti della Cina dice molto su questo arretramento dall'altra parte vede l'aver perso quei paesi cuscinetto che erano sostanzialmente la Turchia tra Europa e Oriente che erano l'Ucraina appunto tra la Russia e l'Europa centrale e poi ovviamente c'era la parte del Libano che faceva riferimento al Medio Oriente questi paesi sono sostanzialmente in uno stato di collasso economico quello libanese molto evidente, quello turco anch'esso evidente basti vedere anche dopo la rielezione di Erdogan la situazione drammatica di svalutazione della Liraturga la fuga degli investimenti ormai da anni e poi ovviamente l'implosione causata dal conflitto russo-ucraino per quanto riguarda la sessa Ucraina quindi perdere quei paesi cuscinetto perdere dei riferimenti ad un equilibrio geopolitico che aveva retto per tanti anni mette o getta un'ombra su quelle che sono le prossime dinamiche di quelle catene del valore di cui parlava il professor Giovannini catene del valore che in alcuni casi hanno avuto un grande successo perché ad esempio quella dei pagamenti digitali vede ad esempio la banca centrale brasiliana imporre alle sue banche i pagamenti digitali ridurre i problemi di coloro che non hanno un conto corrente ricordo in Italia il 30% di donne non ce l'hanno e quindi dal Brasile un grande esempio di come il sistema PIX abbia fatto fare un salto in avanti al sistema bancario e alla cittadinanza in quanto a pagamenti digitali catene del valore che invece si sono trovate un po' bloccate o collassate perché la Cina con l'acquisizione di vari porti da quelli tedeschi a quelli greci piuttosto che in Africa e in America ha cercato di creare un suo sovrapotere della distribuzione dei commerci internazionali che però va a scontrarsi con la difficoltà di fare delle alleanze sulla difesa e sulla politica forte con i paesi di cui possiede i porti quindi una globalizzazione sullo sfondo in una fase di deglobalizzazione causata dall'implosione delle catene del valore per come erano state concepite all'interno della globalizzazione e della mancanza del venir meno dei paesi cuscinetto il tutto in un cambiamento del rapporto capitale lavoro e lo vediamo chiaramente e di mismatching delle competenze sul quale si deve riflettere grandemente soprattutto in Italia è un processo di deindustrializzazione che deve vedere recuperare grandi spazi da questo punto di vista proprio da quei commerci internazionali io faccio un piccolo inciso che questo come è un po' nello spirito del festival non è un incontro per voi ma con voi quindi lasciamo poi dello spazio anche delle domande delle riflessioni che volete fare al termine di questo incontro allora professor Giovannini invece lo stavamo dicendo non c'è più solo una visione occidentale ma bisogna tener conto dei paesi emergenti dove per paesi emergenti non si può prescindere dall'Africa sì è quello che sta accadendo vi faccio due esempi il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres l'anno scorso ha pubblicato un rapporto che si chiama Our Common Agenda quindi la nostra agenda del futuro con alcuni passaggi importanti e in questo rapporto si discute anche della riorganizzazione delle Nazioni Unite il primo passaggio è a settembre di quest'anno in cui proprio si deve discutere per la prima volta a livello di capi di Stato e di Governo lo Stato dell'arte sull'agenda 2030 e cosa si vuole fare per fare quel salto per recuperare i ritardi che si stanno accumulando a settembre dell'anno prossimo invece c'è proprio il Summit sul futuro in cui alcune delle tematiche poste alla base di questo documento dovrebbero essere discusse tra cui la riorganizzazione del sistema finanziario voi sapete che i paesi emergenti ma non solo dicono di fatto il potere è ancora nelle mani dei paesi occidentali nella Banca Mondiale nel Fondo Monetario Internazionale dentro l'ONU il ruolo del Consiglio di Sicurezza con i poteri di veto dei paesi vincitori diciamo così della Seconda Guerra Mondiale e quindi chiedono un cambiamento più forte e poi nel 2025 un forum mondiale sociale bene il gruppo cosiddetto G77 che sono tutti i paesi non allineati chiamiamoli così per modo di dire cioè non sono i G20 non sono sono tanti piccoli paesi che però tutti insieme 77 più la Cina possono bloccare le risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'ONU sono andati al Segretario Generale e gli hanno detto no no guarda non hai concordato con noi questa agenda cioè l'agenda per il 2024 quindi ricominciamo da capo ci risediamo qua e il tuo documento lo metti da parte capite che è un atto molto forte sul piano della negoziazione internazionale quindi al di là delle grandi potenze o delle potenze regionali sta emergendo appunto questo protagonismo di tutti gli altri che vogliono contare perché? perché si rendono conto che sono dei vasi di coccio diciamo così tra molteplici vasi e vasetti di ferro questo sta ulteriormente creando problemi al funzionamento delle organizzazioni internazionali qualche settimana fa c'è stato un interessante discorso di Sullivan il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Biden in cui Sullivan spiega un po' la propria visione e cioè la visione fondamentalmente di un ritorno al secondo dopoguerra del secondo dopoguerra mondiale in cui cioè gli Stati Uniti i suoi alleati classici Canada Messico eccetera Unione Europea Giappone Corea insomma quelli più vicini a una visione di un certo tipo devono entrare in una nuova fase di lotta contro la Cina sul piano commerciale bisogna stabilire delle nuove filiere all'interno di questo di questa coalizione occidentale plus chiamiamola così perché perché dicono ormai la Cina ha conquistato posizioni molto forti sul piano tecnologico pensate alla transizione digitale poi su questo dico una cosa al volo ci torniamo forse dopo sul tema dell'automobile no? Anzi la dico subito si dice ah le terre rare necessarie per fare le batterie delle automobili non possiamo dare alla Cina o ai paesi che controlla in Africa in Sud America il nostro il controllo di un'impresa così importante di uno settore così importante scusate ma questi qui non è che compriamo da loro solo le terre rare compriamo proprio gli oggetti allora lo faccio solo come esempio per dire che credo nessuno abbia detto nelle ultime settimane negli ultimi mesi dobbiamo fermare la digitalizzazione perché è pieno i nostri telefoni sono pieni di batterie a litio no invece si combatte sulla questione dell'auto elettrica lo dico perché l'Unione Europea deve porsi seriamente questi problemi deve investire molto in ricerche in ricerca per esempio per altri materiali di cui l'Europa è molto ricca penso al potassio o il sale per fare batterie che non siano litio e così via e l'Europa è proprio in questo momento spinta sul piano della razionalità a fare un salto ulteriore verso l'integrazione ma ci sono invece forze molto forti che dicono no no noi non vogliamo andare verso un'unione ancora più forte sul piano politico o sul piano economico Next Generation U cioè il PNRR è stato un caso unico questa posizione della Germania non vogliamo creare ulteriore debito comune magari per finanziare quei settori che devono fare il salto tecnologico altri paesi pensiamo all'Ungheria alla Polonia i paesi in cui appunto sono al potere forse più populiste qualunque cosa questa parola voglia dire dicono no no noi non vogliamo cedere della sovrazione sovranità ulteriore però così facendo noi restiamo dei nanerottoli quindi come vedete ci sono temi reali molto importanti su cui però le forze politiche di ispirazione diversa in Italia ma non solo ho citato gli Stati Uniti hanno posizioni molto diversificate un chiarimento e una precisazione il chiarimento era ma quando le parlava del gruppo dei 77 che appunto sottolineavano l'essere stati messi fuori queste dinamiche quelle che sono state le proposte e le critiche avanzate dal suo punto di vista c'erano queste critiche o era solo a prescindere? no no ma è un problema di metodo quando uno non vuole discutere delle proposte comincia così perché il segretario generale aveva nominato due rapporteur cosiddetti uno tipicamente dei paesi sviluppati e uno dei paesi in via di sviluppo per cominciare a negoziare quello che poi sarà la dichiarazione di settembre di quest'anno di settembre dell'anno prossimo a partire da quel documento e la critica è il fatto di aver pubblicato un documento così importante senza discuterne prima con loro quindi non c'entra nulla al contenuto è proprio un fatto di mozione d'ordine come si diceva o no e un'altra cosa il tema dell'automotive è centrale poi siamo qui a Torino anche l'Italia ha sollevato delle perplessità sul tema della mobilità elettrica perché tutta la filiera nostra è in ritardo quindi non è vero però insomma queste sono così anche lei tombale quindi non è vero si vuole argomento brevemente intanto per darvi un'idea della discussione avendo fatto parte del governo Draghi e quindi avendo il ministro Cingolani in realtà negoziato l'accordo per esempio per il phasing out cioè per l'eliminazione delle auto nuove a emissioni zero al tubo di scappamento scusate se sembro non c'è la parola elettrico non c'è proprio nel regolamento posso? in Europa abbiamo 300.000 morti premature all'anno per malattie legate all'inquinamento e l'Italia del nord in particolare è in infrazione per la qualità dell'aria tutto questo non è solo derivante dai trasporti evidentemente che pesano circa per il 25% sul fenomeno bene la commissione abbiamo 52.000 morti all'anno premature in Italia legate all'inquinamento la commissione europea ha detto vabbè basta dal 2035 le auto nuove devono essere ad emissioni zero al tubo di scappamento è chiaro che uno emette gas climalteranti quando la fabbrica come tutte le altre auto quindi non ha detto auto elettriche ma devono essere a emissioni zero al tubo di scappamento qual è la tecnologia che oggi consente questo al momento solo l'auto elettrica ma se domani mattina qualcuno inventa l'auto ad aria va benissimo per le regole europee dunque le case automobilistiche hanno già scelto l'elettrico da tempo tutte beh qualcuno è più avanti qualcuno è più tardi siamo a Torino ricordiamo un ex amministratore delegato della Fiat che diceva che per lui l'auto elettrica era una sciocchezza però questa è una scelta come dire che ogni impresa fa quindi principio della neutralità tecnologica è preservata perché l'Italia non ha vinto la battaglia molto tardiva sui biocarburanti perché i biocarburanti non sono ad emissioni zero come ministro noi abbiamo affrontato queste cose per mesi pubblicato anche un documento sulla decarbonizzazione dei trasporti e la logica di tutti i paesi è biocarburanti benissimo li usiamo dove non abbiamo un'alternativa a emissioni zero gli aerei le navi i tir ma perché dobbiamo usare qualcosa che emette se invece abbiamo una soluzione alternativa e poi quanti biocarburanti possiamo produrre questo lo dico perché visto che dal 2035 comunque i milioni di auto a combustione interna continueranno esistenti continueranno a circolare benissimo usare i biocarburanti quindi capite che le discussioni quando entrate un po' dentro sono anche molto diverse da come la stampa talvolta le pone mi dispiace verissimo perché hanno titoloni recenti quello che dicevamo dottoressa Segri è stato accennato più volte il tema della Cina ecco in tutto questo scenario cosa ci dobbiamo aspettare ma allora sicuramente la Cina in questo decennale di Xi non è che stia festeggiando questa crescita non sufficiente del 5% la stessa India l'ha battuto con un più 6,1% il modello non sta funzionando sotto tanti punti di vista e anche il fatto di essere venuti meno a quello che era l'impegno di Denzio Pim con la politica della porta aperta con riguardo alla natalità e cercare di correre dietro ai problemi demografici riaprendo la possibilità a più figli certamente ci vorrà del tempo quindi sicuramente ci sono dei problemi i ritardi nell'affrontare le problematiche ambientali ma soprattutto il problema del posizionamento geopolitico nel momento in cui a Hiroshima il premier giapponese Kishida ha cercato di trovare una sorta di accordo su come affrontare il problema dell'alleanza sino-russa soprattutto ed anche nel mar del Giappone e nelle zone appunto delle territori contestati per cui il Giappone si sente isolato quindi a questo punto bisogna capire la Cina che cosa vorrà fare al di là degli abboccamenti e di questo avvicinarsi a una Russia a una Russia che è in grande difficoltà quindi approfittare dell'orso malato e in difficoltà economica perché anche a qualcuno ha le prezze del gas chiediamo che Putin non è che stia festeggiando neanche lui e quindi approfittare di questa debolezza per fare una sorta di takeover sui paesi con i quali grazie anche alla banca che è stata creata in termini di regolamenti internazionali con i paesi che commerciano con la Cina anche nella riunione di BRICS si parlerà della possibilità di questo famoso fondo monetario alternativo e quindi a una diffusione di un yuan che anche in versione digitale potrebbe erodere ulteriormente potere al dollaro ma non certamente in maniera significativa quindi un grande momento di difficoltà mi avviso per la Cina anche perché chiaramente il covid è costato carissimo è costato carissimo soprattutto da un punto di vista della perdita nel riprendere il controllo sociale che è la base poi del potere cinese quindi sicuramente è un momento di grande difficoltà e non è detto che il posizionamento a fianco e con la Russia sia la soluzione per loro peraltro poi c'è come veniva accennato prima il atteggiamento a tratti ambigo ma perfettamente comprensibili da un punto di vista di efficientamento dei commerci che è quello del rapporto tra la Germania e la Cina che questo è un altro dei grandi temi che crea dibattito all'interno di un'Europa che non è così forte ed è per questo che io parlo più che altro di blocco nato non è così forte da prendere una posizione netta nei confronti dello strapotere cinese parlando di Cina ha avuto l'occhio lungo sull'Africa quindi ritorniamo al tema dei paesi emergenti lei è una delle massime spette ci ha lavorato ha studiato tanto su queste tematiche appunto a questo punto quale può essere il riscatto comunque il faturo di questi paesi penso alla Cina che insomma ha visto lungo sull'Africa su una parte dell'Africa si stiamo parlando di un continente che è quello che inquina di meno e che paga maggiormente in termini veramente di carestia perché di questo che stiamo parlando di enormi difficoltà della popolazione africana non avendone nessuna colpa direi avendo certamente la colpa di non essersi posto il problema di aver accettato troppa immondizia dall'esterno pensando di poter risolvere ma evidentemente non è riuscito a farlo e nonostante anche gli investimenti pensiamo solo che quello che è stato fatto per la malaria da parte della fondazione Gates e così avanti però come si diceva una Cina che versa l'Africa e sostiene progetti in Africa con molti soldi di più anche della stessa banca mondiale è un'Africa che però se vediamo nel rapporto AMREF grazie al digitale è protagonista di un riscatto un protagonista di un riscatto digitale che vuol dire diffondere formazione e competenze utilizzo delle tecnologie per le terre per le coltivazioni e quindi tutti i grandi progetti che si fanno ad esempio anche la nostra la nostra emanazione in Francia lavora grazie anche alla presenza di Aisha Badialo che è ex ministro dell'educazione in Guinea e con le colleghe si lavora per quanto riguarda i paesi francofoni africani vedi queste realtà proprio riscattarsi e vorrei solo fare un esempio che è quello di Ampesa Ampesa è una realtà sui pagamenti digitali dove ci sono più di 60 milioni di utenti dove abbiamo oltre 500 miliardi in termini di flussi scambiati e protagonista sono le donne che hanno il microcredito che vanno ai mercati che scambiano le merci e si gestiscono il loro wallet digitale e quando arrivano qua in Italia con i barconi e li incontriamo nei centri antiviolenza cosa andiamo a spiegargli quando loro sono già abituate a utilizzare un wallet digitale e le nostre non hanno neanche un conto corrente quindi è un mondo che fortunatamente grazie al digitale anche grazie alla globalizzazione nonostante l'aumento delle disuguaglianze sociali ha diffuso opportunità l'Africa le sta prendendo ma noi abbiamo un'enorme opportunità col Mediterraneo di aiutarle di fare qualcosa e di cambiare il nostro ci vorrebbe una politica estera più lungimirante professore questo mi ha ricordato una conversazione stavo facendo poco prima di partire di iniziare con questo tavola rotonda sul tema delle ultime considerazioni di Ignazio Visco di pochi giorni fa sul tema dell'immigrazione immigrazione non vista sempre con una chiave un'accezione negativa ma anche come forse una delle chiave di volta se gestite in maniera positiva dall'Italia Visco ha avuto parole molto molto chiare con la forza dei numeri come sempre nei prossimi 20-30 anni la popolazione italiana andrà a picco oltre che con un aumento enorme della quota degli anziani in un passaggio delle considerazioni finali il governatore dice qualsiasi politica per la natalità avrà effetti oltre i prossimi 20 anni e noi non possiamo aspettare dice ancora Visco l'immigrazione regolata di qualità con la formazione è l'unica soluzione punto attenzione non è solo un problema di mercato del lavoro per cui sappiamo che tante imprese vanno avanti solo grazie alla presenza appunto di immigrati ma è anche un elemento di innovazione perché molte delle persone che arrivano nel mucchio se posso usare questo termine dei balconi in realtà hanno professionalità anche elevate dunque abbiamo tutto il vantaggio di aprire dei canali legali di immigrazione ma non temporanei solo per far fronte all'estate nei campi ma per riuscire ad avere persone e attenzione quando parlo di immigrazione non parlo solo dei paesi dal sud ma noi non riusciamo ad attirare persone giovani in particolare di qualità dagli altri paesi europei e perché non le attiriamo adesso parlo di questo gruppo perché paghiamo molto poco un dottore di ricerca italiano cioè che ha ottenuto il titolo in Italia se va all'estero guadagna 1500 euro al mese in più di quanto viene pagato in Italia capite che questo ha a che fare con l'altra debolezza che visco identifica molto chiaramente un sistema fatto di piccole imprese che hanno alcuni vantaggi ma anche tanti svantaggi in termini di innovazione di ricerca di capacità di essere gestita in modo efficiente quindi produttività bassa quindi stipendi bassi e quindi mancata attrattività aggiungo però un punto che potenzialmente è una rivoluzione il governatore non ne ha parlato ma secondo me invece può avere un effetto veramente dirompente se gestito bene dal 2024 come anno di riferimento anche le imprese italiane di media dimensione dovranno cominciare a rendicontare secondo la sostenibilità non solo quella ambientale ma anche quella sociale e dovranno farlo lungo tutta la filiera quindi con i fornitori con i sub fornitori si dovranno preoccupare di come faranno viaggiare le merci sui tir inquinanti o sulle ferrovie meno inquinanti questo è tutto il lavoro che la commissione europea che l'unione europea a cui l'Italia ha contribuito in questi quattro anni di presidenza von der Leyen sta andando a regime in Italia abbiamo 3 milioni di lavoratori irregolari e abbiamo un'evasione fiscale dell'ordine di 98 miliardi di euro ora le imprese bravissime quelle mediamente brave che dovranno rendicontare lungo la filiera si gireranno dall'altra parte oppure come dovrebbero imporranno ai loro sub fornitori di rispettare i contratti di dichiarare quello che devono dichiarare e così via questo è un passaggio molto rilevante perché ormai è un regolamento europeo va fatto è una straordinaria opportunità scusate se uso questo termine schumpeteriano per pulire un po' il mercato e cioè spingere tutti il nostro sistema produttivo a fare un salto di qualità nell'innovazione del miglioramento perché come diceva Visco l'evasione fiscale è una concorrenza sleale a quelle imprese che invece fanno concorrenza correttamente investendo in innovazione e così facendo aumentano anche l'occupazione i profitti stessa cosa per la transizione ecologica perché non è vero che siamo indietro non è vero certo ci sono imprese che come quella che dicevo prima magari non ha investito in questa direzione e quindi certo ma è il mercato bellezza avrebbe detto Clinton anni fa quindi un presidente democratico e anche un presidente repubblicano però deve essere una concorrenza all'avanzamento non al ribasso quindi non può essere una concorrenza solo fatta sui costi e qui c'è una decisione fondamentale che l'Unione Europea ha preso poco diffusa nel nostro paese ma invece fondamentale intanto perché ci consente di ripagare il PNRR quindi già importante per quello e cioè la tassa sul carbone alla frontiera vuol dire che dal 2025 l'importazione di prodotti da paesi extraeuropei che non possono dimostrare di aver rispettato i diritti umani di pagare stipendi decenti di abbattere le emissioni eccetera eccetera avranno un dazio un sovrapprezzo perché giustamente bisogna proteggere le nostre imprese che fanno le cose seriamente e questo spingerà altri ad andare in questa direzione speriamo guardate che è un passaggio veramente epocale per consentire come si diceva prima a chi finora ha fatto un po' orecchie da mercante si ne parla ma poi non lo fa di fare il salto compresi i paesi emergenti questo mi ha dato da pensare che noi giornalisti abbiamo sempre andiamo sempre sulle stesse cose e poi cambiamo si parlava di covid adesso non se ne parla più fino a poco fa si parlava di gas di botto non se ne parla più e allora dottoressa Segre questo braccio di ferro sul gas insomma mi ha dato l'assistante in questo istante il professor Giovannini come è andato a finire è andato a finire che abbiamo il prezzo superiore degli ultimi due anni è andato a finire che anche qui il passaggio all'utilizzo del gas che ha fatto non è per tutti quindi ha creato una segmentazione del mercato e come si diceva è andato a finire con un grave disappunto evidentemente di Putin c'è stata una risposta che al di là delle tempistiche delle modalità diciamo in termini di pricing è stata coesa da parte dell'Unione Europea questo è stato molto importante è un grande lavoro che ha fatto la Van der Leyen il problema che è il discorso adesso legato che riguarda soprattutto l'impeto sulle rinnovabili e il recente accordo tra Spagna Portogallo e Francia sull'idrogeno dove noi siamo un po' tagliati fuori quindi sicuramente se la battaglia sul gas e se quello che doveva essere la spada di Damoc del gas è stata smontata in un certo senso da un comportamento assolutamente efficace ed efficiente da parte dei paesi europei tutti dall'altra parte questo deve essere tradotto in politiche molto chiare per quanto riguarda il discorso dei rinnovabili perché abbiamo paesi che stanno facendo grandi passi avanti e paesi come il nostro che invece deve recuperare il lavoro che è stato fatto in termini di servizio civile verso la cittadinanza da tecnici come il professor Giovannini come il professor Colau nell'ambito sia dell'ambientale che della sicurezza digitale quello che hanno lasciato in termini proprio fisici di tomi di cosa fa da fare da qui al 2026 necessitano coraggio necessitano quel coraggio di politiche proattive senza le quali la sostenibilità non si raggiunge senza le quali all'agenda 2030 non ci arriveremo quindi è quello di cui c'è bisogno e non si tratta di ribadisco politiche da una parte o dall'altra di politiche che riguardano la cittadinanza il tema delle rinnovabili che ci vede lontani anni luce evidentemente nell'utilizzo delle stesse dalla Germania fino al Portogallo vede nel coraggio di questi paesi che sono ormai vicini al 50% di utilizzo delle rinnovabili per proprio per bisogno energetico un esempio che ce la si può fare se si riesce a guardare in maniera lungimirante a dei temi che sono di urgenza per il nostro paese ma che sono hanno obiettivi raggiungibili un chiarimento questo essere fuori dai giochi come ha detto adesso la dottoressa Segre sul tema dell'idrogeno tra Portogallo Spagna e Francia è di natura economica o politica secondo lei e la seconda domanda andando oltreoceano un ruolo strategico lo sta giocando l'America un'America ha copiato l'Europa ma con la loro potenza di fuoco ci ha superato quindi come in questo caso l'Europa dovrebbe reagire la politica è importante non solo perché decide di come spendere i soldi pubblici noi in Italia siamo molto concentrati su questo ma perché dà i segnali di dove si vuole andare la verità è che per anni un po' come l'esempio che facevo prima sull'auto elettrica la politica del paese non ha dato segnali su dove bisognava andare e grazie proprio al Next Generation U invece la direzione è chiarissima transizione ecologica transizione digitale lasciate stare che le parole sono state cancellate dai ministeri così come sostenibilità del mio ex ministero possiamo cancellare tutte le parole che vogliamo ma il punto è che lì si deve andare e lì molti stanno andando pensate alle imprese che avevano scelto autonomamente di andare sul fotovoltaico rinnovabili pensate quanto hanno sorriso durante la crisi energetica perché per loro non cambiava niente oggi ho preso un aereo ITA da mi spiace sì sostenibilità però i tempi erano troppo stretti uno dei nuovi aerei perché mi sono occupato anche di queste cose durante il passaggio dall'Italia a ITA ITA avrà entro l'anno un'immissione di nuovi aeromobili di nuova generazione che risparmiano il 25% di carburante quindi immaginate a parità di altre condizioni il vantaggio competitivo oltre che avere la flotta più green al mondo nel 2024 e queste sono frutto di scelte che abbiamo fatto insieme l'idrogeno posso togliermi un sassolino assolutamente non ci ascolta nessuno esattamente allora nelle settimane scorse c'è stato un gran parlare del fatto che un rapporto della Corte di Conti ha puntato il dito contro uno dei progetti del mio ex ministero che prevede di fare 40 stazioni di ricarica a idrogeno lungo le autostrade perché l'idrogeno è uno dei vettori che vengono già usati da alcuni grandi produttori di tir accanto anche all'elettrico troppo lungo il discorso e invece sono solo 36 invece che 40 in più dice la Corte dei Conti ma perderemo metà dei soldi è perché voi gli avete dato solo il 50% di contributo ai privati invece di dargli tutti i soldi ora primo io trovo un miracolo che se si faranno 35 36 quello che sia perché è un settore che siamo partiti da zero abbiamo fatto sì la scelta di non pagare tutto il conto grande risultato vuol dire che il privato pensa che questo sia un settore col futuro se noi avessimo pagato tutto l'investimento non avremmo avuto questa sensazione di un mercato di dove il mercato voleva andare terza cosa colgo l'occasione per raccontarlo a tutti perché anche qui forse è stata colpa nostra non l'abbiamo spiegato se tu hai concordato con l'Unione Europea un progetto e gli hai detto costerà 100 e poi riesci a realizzarlo con 50 quei 50 non glieli restituisci te li danno comunque scusa mi faccio assorbire questa notizia che è sconosciuta al paese perché la negoziazione è fatta sui risultati non sul costo il PNRR il Next Generation non è un rimborso a piedi lista è un finanziamento per raggiungere certi obiettivi e la relazione che il Ministro Fitto ha pubblicato l'altro ieri contiene dei dati straordinariamente interessanti tra cui il fatto che l'Italia rispetto agli altri grandi paesi ha scelto di farsi giudicare non sulle spese ma sui risultati che vuol dire la messa in funzione della ferrovia iesima non quanto hai speso per fare ecco il potere trasformativo del Next Generation U e del PNRR e invece noi di cosa discutiamo? Ecco lo dico perché negli altri paesi che hanno fatto scelte diverse dall'Italia ma l'hanno fatta perché ce le siamo studiate bene per dare questa indicazione chiara al mercato di dove il paese vuole andare eravamo a Davos l'anno scorso e si discuteva del fatto che la Spagna non aveva scelto di usare tutti i fondi un giorno dopo Sanchez mentre eravamo a Davos ha annunciato 13 miliardi per una gigafactory vicino Madrid ecco e quindi ha deciso di usare più soldi di quelli perché perché in due anni il mondo cambia quindi va benissimo se riorganizziamo il PNRR credo di essere stato il primo a dirlo a febbraio del 2022 suscitando anche così qualche dubbio ma diteci dove volete andare ma non voi governo dove deve andare il paese idrogeno non idrogeno rinnovabili biocarburanti questo è quello che credo al di là del dibattito politico anche le imprese stanno cercando molto importante quello che stavo detto prima come nelle altre crisi energetiche sono abbastanza grandi per ricordare il 73 e il 1980 le imprese mica stanno a guardare stanno investendo per l'efficienza energetica le rinnovabili non è che aspettano le chiacchiere di chi ha il governo perché perché è conveniente allora lo dico perché noi quando i dati saranno disponibili scommetto che troveremo le nostre imprese che avranno fatto un salto straordinario nella direzione anche voluta dal next generation con buona pace di quelli che mi hanno chiesto per un anno da ministro ma secondo lei la crisi energetica accelererà il cambiamento lo rallenterà e io dicevo fate finta di essere nel 74 a dire a un imprenditore ma secondo lei vuole investire di più in tecnologie basate sul petrolio o meno quello che avrebbe detto che stai dicendo ecco il dibattito pubblico visto che parliamo di futuro passa molto per le scelte delle imprese e quindi per l'indicazione di dove vogliamo andare in futuro una battuta sull'America l'America come ho detto ha copiato da un lato l'Europa con l'Inflation Reduction Act con tutta la potenza di fuoco di soldi in questo caso ma di fatto l'amministrazione Biden ha fatto quello che sono sicuro anche noi avremmo voluto fare come Europa ma non avendo un fondo comune il punto è che la prossima amministrazione 2024 con l'elezione 2024 si confronteranno punti di vista molto diverse con il partito repubblicano con alcuni esponenti al di là di Donald Trump che invece dicono no 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 noi continuiamo sull'olio sull'oil sul petrolio queste sono figlie di un'ideologia ambientalista e questo è proprio un errore clamoroso che le imprese stanno smettendo quando Trump aveva impedito di parlare di cambiamento climatico c'è stato il numero più elevato di chiusura di centrali a carbone degli Stati Uniti nella storia perché è anacronistico ed è anche economicamente sbagliato Dottoressa Segre la segretaria al tesoro americano Yellen ha scritto una lettera alla Camera e al Senato dicendo da cerchiare il rosso la giornata del 5 di giugno quando dice che si arriverà al tetto del debito americano come dobbiamo leggere questa dichiarazione una Yellen che più volte ha messo in guardia i mercati che ha cercato di richiamare una responsabilità politica importante sappiamo che adesso la firma è stata fatta quindi entro 5 giugno tutto dovrebbe sostanzialmente rientrare come ci hanno abituato il cambiamento forse questa volta che stiamo parlando di ben due anni quindi uno spazio temporale più ampio per quanto riguarda il controllo del tetto e ancora una volta dei riferimenti a un contenimento di alcune misure fiscali che peraltro saranno prese poi dagli oltre 700 miliardi dell'Inflation Reduction Act il problema sta nel fatto che Yellen è molto preoccupata perché i dati dell'occupazione sono molto buoni il timore è che dopo questo passaggio di giugno senza un ulteriore rialzo dei tassi Powell possa per così dire riprendere un cammino che resta per quanto graduale per quanto contenuto necessario perché alcuni dati vanno in questa direzione cosa diversa invece è per quanto riguarda l'Unione Europea il problema è ancora una volta da parte di Yellen di tenere la barra dritta e dare dei messaggi che permettano di sollevare un po' quella che è la preoccupazione su un mercato che adesso sta recuperando per quanto riguarda i tecnologici ma che dal punto di vista del sistema bancario ancora abbiamo grossi problemi sulle banche regionali ancora abbiamo dei grossi deflussi che certamente vanno verso le banche più grandi ma non si è risolto il problema alla base cioè che non c'è una normativa come quella europea come dimostrato anche dal rapporto pubblicato da Enria quindi dal sistema di vigilanza europea che dia garanzie per la tenuta del sistema bancario delle banche regionali americane quindi questa per me è la grossa preoccupazione per cui Ellen esce fuori con certe dichiarazioni perché qui non è solo il problema del tetto è proprio il problema che mancano quelle norme che rimettano le briglie ai controlli e a un sistema bancario che continua a essere estremamente fragile chiedo scusa Visco nella sua relazione ha citato un numero che mi ha veramente scioccato non ricordo qual è stato il periodo a cui faceva riferimento 3500 istituti di credito negli Stati Uniti salvati dalla bancarotta negli ultimi anni 3500 piccole cose diciamo così però questo vi dà un'idea della fragilità del sistema e ha aggiunto insomma per dirlo per una volta all'Europa ha un sistema di regole che sicuramente un po' le protegge ma ha detto insomma sempre osservate e speciali sempre con grande attenzione l'Italia e l'Europa da questo punto di vista sono più appantaggiate tante regole tante volte anche vituperate però poi alla fine hanno portato i risultati Sì lui ha rivendicato naturalmente anche i risultati ricordate qualche anno fa quando la Banca d'Italia sembrava il male assoluto rispetto ad alcuni casi Banca Etruria di vigilanza mancata in realtà lui lo scrive tra le righe di quante sono state salvate invece grazie appunto a un'opera silenziosa che non ha però generato la fuga dei risparmi c'è un punto molto rilevante che lega di nuovo sostenibilità finanza e andamenti complessivi il nostro continente insomma l'Unione Europea ha preso una posizione molto forte anche nella rendicontazione da parte delle banche e delle assicurazioni sui loro investimenti a rischio a causa della crisi climatica è uscito anche sui giornali dopo il dramma dell'Emilia Romagna come in altre parti del mondo le aziende di assicurazione non assicurano più contro danni da crisi climatiche perché perché sono troppo certe quindi sarebbe una perdita per loro secca questa è una cosa che abbiamo visto da anni in alcune aree del mondo in cui la politica ha provato a frenare ricordiamo il North Carolina in cui appunto uno stato molto a rischio perché ci sono tutte le case sulle palle affitte che probabilmente vengono solo colpite ogni anno dai tifoni ma potranno essere spazzate via il governatore di quello stato vietò in tutti i documenti pubblici le parole cambiamento climatico quindi puoi fare tutto quello che ti pare ma appunto il mercato poi va in questa direzione ed è importante c'è una discussione a livello europeo ma non solo come si devono comportare le banche rispetto alle imprese i settori che sono ancora indietro devono togliergli il credito semplicemente perché non sono non stanno usando le rinnovabili oppure qualcun altro dice no io te lo tolgo solo se tu non ti impegni a fare i passi avanti anzi io ti finanzio solo se va in questa direzione tutto questo viene visto da alcuni come appunto anche questo frutto dell'ideologia la banca centrale la fed americana non è su queste posizioni tant'è vero che qualcuno ha scritto vedete ecco gli europei ci sono a causa dell'ideologia ambientalista invece gli americani il vero tema lo sappiamo è che gran parte delle emissioni ora non nel passato che sono tutte colpa nostra vengono invece prodotte dai paesi emergenti l'india che come sapete ha superato la cina dal punto di vista della popolazione qualche settimana fa e dunque il tema vero è che noi gli abbiamo venduto tecnologie vecchie e quindi loro stanno facendo i nostri stessi errori il tema del finanziamento alla transizione ecologica è un tema complessivo ed è qui dove i 100 miliardi di dollari che già dal 2015 avrebbero dovuto essere investiti ogni anno in quella direzione finanziamenti dei paesi sviluppati non si vedono e continuano a non vedersi quindi ogni giorno che ritardiamo questi aiuti e gli europei hanno un ruolo molto importante da questo punto di vista di fatto stiamo facendoci del male anche dal punto di vista del cambiamento climatico l'Italia che si è impegnata come gli altri paesi europei a raggiungere lo 0,70% del reddito nazionale lordo in aiuti allo sviluppo in realtà destina lo 0,3% in realtà l'aumento negli ultimi due anni è legato solo al fatto che si contabilizzano in questi aiuti anche le spese per i migranti sul nostro territorio compresi gli ucraini quindi capite che in termini di flussi siamo veramente tra quelli col braccino più corto anche questo è un tema importante geopoliticamente importante come è stato ricordato prima stiamo andando verso la chiusura volevo chiedere a dottoressa Segri parlando dell'Italia il tema della sostenibilità siamo in ritardo penso alcuni obiettivi gol 5 gol 10 il tema della parità di genere dell'uguaglianza insomma come stiamo messi soprattutto cosa dobbiamo fare per cercare di colmare questo gap infatti questo è un po' il problema che riguarda tutto il dibattito sulla globalizzazione come facciamo a raggiungere la sostenibilità se non ci sono delle norme che aiutano il raggiungimento di questi obiettivi globali perché siamo così in ritardo sul gol 5 sul gol 10 che riguarda appunto l'uguaglianza di genere e la lotta le disuguaglianze nel momento in cui gli altri paesi hanno saputo dare delle risposte in termini di quella s dei criteri ESG che necessita di un intervento normativo come si diceva prima noi siamo nati nel 2016 quindi in un modello di attività filantropica che prende spunto dalla gente al 2030 e dalla convenzione di Istanbul la convenzione di Istanbul nasce nel 2011 ratificata nel 2013 mai pienamente attuata ancora in questi giorni dopo quello che è successo ieri lo chiediamo a gran voce l'attuazione di una lotta evidente contro una violenza di genere che costa 39 miliardi all'anno a questo paese se non è così chiaro nei numeri deve essere chiaro in quello che leggiamo purtroppo in un cambiamento culturale che passa solo attraverso il lavoro nelle scuole con i ragazzi tante volte ci siamo mosse sul territorio italiano con Libere di Vivere abbiamo sentito la risposta dei ragazzi delle nuove generazioni sul tema del rispetto sull'educazione civica sull'inserire la parte delle competenze economiche e finanziarie perché i ragazzi lavorino sul proprio benessere personale e finanziario perché siano consapevoli del proprio percorso economico senza rimendicazioni senza una situazione di malessere che purtroppo il digitale in tante sfaccettature ha creato e il fatto di aiutare anche le persone a interfacciarsi in un dialogo intergenerazionale con i ragazzi di fronte al problematica di un digitale che vende un modello che non solo non è replicabile ma è fino a se stesso e non va da nessuna parte perché la realtà è ben diversa la realtà ci fai conti tutti i giorni con le risorse economiche del tuo lavoro con le difficoltà che ci sono in famiglia date dall'inflazione date da situazioni di sovraindebitamento diffuso e quindi queste difficoltà si affrontano solo con la consapevolezza che il cambio culturale si può fare se si interviene normativamente in maniera chiara arginare i danni sociali di queste piaghe si può se si ancora una volta non con i soldi ma con le idee chiare su quello che si vuole fare dando un messaggio come sono state fatte le leggi in Francia dalla Marie-Pierre Rixen sull'uguaglianza economica quella sul cyberbullismo di Balanà sono tutte cose che si possono fare ma che devono essere fatte rapidamente per ricucire un tessuto sociale che altrimenti ne paga le conseguenze in maniera pesante e da lì non se ne viene fuori e la parità di genere poi si raggiunge tutti insieme tutte le persone che sono qua ciascuno nel proprio quotidiano nel proprio lavoro ma se non gli diamo gli strumenti anche nelle scuole ai ragazzi e cito un'ultima cosa perché ce l'abbiamo davanti tutti quanti quello che è successo al festival di Sanremo quando ci sono degli atti di violenza per cui qualcuno distrugge un qualcosa che è stato creato che ha avuto un costo degli altri devono ramazzare per questo e di fronte a un testo di una canzone così violento che parla di possesso dove l'aspetto relazionale anche tra i ragazzi non viene maggiormente diciamo così riportato a una capacità di empatia di ascoltare l'altro di comprenderne anche le difficoltà le fragilità insieme di fare un percorso di affrancamento nel rispetto pieno gli uni degli altri non andiamo da nessuna parte quindi finché continuiamo con le giustificazioni e con il tirare su spallucce rendiamoci conto che la prima causa di morte di una donna in Italia è il femminicidio dell'uomo e l'incidente stradale quindi sicuramente abbiamo un problema sull'automotive ma abbiamo ancora un problema più grande nella concezione di mettere le politiche a favore e della prevenzione contro queste disuguaglianze di genere al centro delle politiche 47 le donne uccise dall'inizio dell'anno di cui 39 femminicidi e siamo a giugno e lo dico tutta una domanda mi dicono che devono chiudere una domanda se qualcuno vuole fare una domanda o una precisa eccola qua in seconda fila arriva buongiorno al professore Giovannini volevo chiedere ritornando un istante sull'Inflation Reduction Act spesso accusato di creare un indebito vantaggio competitivo a favore delle società chiaramente statunitensi condivide questa posizione e soprattutto il fatto che le società siano chiamate a produrre una non financial disclosure inciderà ulteriormente sul discorso competitivo perché crea uno screening insomma una una simmetria una simmetria a svantaggio di quelle che non potranno logicamente seguire questo rigore regolamentare in realtà la politica americana incentiva le produzioni sul suolo americano quindi peggio ancora da un certo punto di vista perché incentiva produttori di altri paesi del mondo tra cui quelli europei a muoversi lì l'Europa da questo punto di vista sta provando a negoziare un ribilanciamento ma il punto è molto evidente noi giochiamo con una mano legata dietro cioè quella appunto di non avere un bilancio comune e dunque una politica anche industriale comune perché perché le politiche sociali ma quelle industriali sono di competenza dei paesi cioè quello che è stato fatto con la pandemia i vaccini è stata un'eccezione assoluta perché i paesi non hanno mai voluto passare all'Unione Europea competenze per esempio sul sociale e anche sull'industriale al di là della tutela della concorrenza ognuno vuole fare per conto proprio tant'è vero che la risposta purtroppo secondo me sbagliata che è stata data è quella di giustamente rilassare le regole di mercato per consentire agli stati di investire su industrie nascenti purché siano nell'ottica della transizione ecologica e digitale ma ognuno per sé questo vuol dire che chi ha maggiori spazi di bilancio cioè meno indebitato dell'Italia può spendere di più ecco questo è un altro esempio del fatto che abbiamo un nanismo benché molti paesi siano molto grandi la Germania l'Italia la Francia la Spagna questo dovrebbe essere il dibattito del prossimo elezioni europee cioè facciamo un salto in una certa direzione o torniamo indietro esattamente perché perché l'integrazione anche economica le catene di subfornitura comunque diffondono vantaggi come nel caso dell'automobile quante imprese che producono automobili in Italia abbiamo e quante speriamo di averne ma le nostre imprese sono fornitrici delle grandi imprese internazionali ed è interessante da questo punto di vista che la Cina stia decidendo invece di comprare aziende europee di venire a installare nuove fabbriche per esempio Gigafactory in Europa e naturalmente c'è la competizione tra i paesi perché la Cina non va bene a nessuno però poi quando tu mi porti qualche miliardo e posti di lavoro c'è la fila ecco questa contraddizione è una contraddizione che dovrebbe spingere l'Europa verso un salto ma ripeto i messaggi che arrivano dai possibili vincitori futuri non vanno in questa direzione io purtroppo devo chiudere perché siamo veramente in ritardo so che ascoltare sia la dottoressa Segre che il professor Giovannini è sempre un piacere un ricordo personale ho avuto la possibilità di moderare anzi una chiacchierata tra me e lei a Tor Vergata con i ragazzi dell'università dalle dieci di sera fino a mezzanotte perché era alla fine dei quarant'anni di Tor Vergata io ho detto vabbè ma questi si addormenteranno a mezzanotte continuavo a fare domande noi alla fine non ne potevamo più grazie in tambi grazie e soprattutto un bel messaggio sul futuro ripensarci un po' di più grazie a tutti grazie 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 a tutti